Pinocchio di Carlo Collodi Capitolo venticinquesimo Pinocchio promette alla fata di essere buono e di studiare, perché è stufo di fare il burattino e vuol diventare un bravo ragazzo. In sulle prime la buona donnina cominciò col dire che lei non era la piccola fata dai capelli turchini, ma poi vedendosi oramai scoperta e non volendo mandare più a lungo la commedia, finì col farsi riconoscere e disse a Pinocchio Birba d'un burattino, come mai ti sei accorto che ero io? Gli è il gran bene che vi voglio quello che me l'ha detto. Ti ricordi? Mi lasciasti bambina e ora mi ritrovi donna. Tanto donna che potrei quasi farti da mamma. Lo caro di molto, perché così invece di sorellina vi chiamerò la mia mamma. Gli è tanto tempo che mi struggo di avere una mamma come tutti gli altri ragazzi. Ma come avete fatto a crescere così presto? È un segreto. Insegnatemelo, vorrei crescere un poco anch'io. Non lo vedete? Sono sempre rimasto alto come un soldo di cacio. Ma tu non puoi crescere, replicò la fata. Perché? Perché i burattini non crescono mai. Nascono burattini, vivono burattini e muoiono burattini. Oh, sono stufo di far sempre il burattino, gridò Pinocchio, dandosi uno scappellotto. Sarebbe ora che diventassi anch'io un uomo come tutti gli altri. E lo diventerai se saprai meritartelo. Davvero? A che posso fare per meritarmelo? Una cosa facilissima. Avvezzarti a essere un ragazzino per bene. O che forse non sono? Tutt'altro. I ragazzi per bene sono ubbidienti. E tu, invece? E io non ubbidisco mai. I ragazzi per bene prendono amore allo studio e al lavoro. E tu? E io, invece, faccio il bighellone e il vagabondo tutto l'anno. I ragazzi per bene dicono sempre la verità. Ma io ho sempre le bugie. I ragazzi per bene vanno volentieri a scuola. E a me la scuola mi fa venire i dolori di corpo. Ma da oggi in poi voglio mutar vita. Me lo prometti? Lo prometto. Voglio diventare un ragazzino per bene e voglio essere la consolazione del mio babbo. Dove sarà il mio povero babbo a quest'ora? Non lo so. Avrò mai la fortuna di poterlo rivedere e abbracciare? Credo di sì. Anzi, ne sono sicura. A questa risposta fu tale e tanta la contentezza di Pinocchio che prese le mani alla fata e cominciò a baciargliele con tanta foga che pareva quasi fuori di sé. Poi alzando il viso e guardandola amorosamente le domandò. Dimmi mammina, dunque non è vero che tu sia morta? Pardi no, rispose sorridendo la fata. Se tu sapessi che dolore e che serratura la gola che provai quando l'essi, qui giace. Lo so, ed è per questo che ti ho perdonato. La sincerità del tuo dolore mi fece conoscere che tu avevi il cuore buono. E dai ragazzi buoni di cuore, anche se sono un po' monelli e avvezzati male, c'è sempre da sperare qualcosa. Ossia, c'è sempre da sperare che rientrino sulla vera strada. Ecco perché son venuta a cercarti fin qui. Io sarò la tua mamma. Oh, che bella cosa! Gridò Pinocchio saltando dall'allegrezza. Tu mi ubbidirai e farai sempre quello che ti dirò io. Volentieri, volentieri, volentieri. Fino da domani, soggiunse la fata, tu comincerai con l'andare a scuola. Pinocchio diventò subito un po' meno allegro. Poi sceglierai a tuo piacere un'arte o un mestiere. Pinocchio diventò serio. Che cosa ha pronto lì fra i denti? Domandò la fata con accento risentito. Dicevo, mugolò il burattino a mezza voce, che oramai per andare a scuola mi pare un po' tardi. No signore, tiene a mente che per istruirsi e per imparare non è mai tardi. Ma io non voglio fare né alti né mestieri. Perché? Perché a lavorare mi pare fatica. Ragazzo mio, disse la fata. Quelli che dicono così finiscono quasi sempre o in carcere o all'ospedale. L'uomo, per tua regola, nasca ricco o povero, è obbligato in questo mondo a far qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a lasciarsi prendere dall'ozio. L'ozio è una bruttissima malattia e bisogna guarirla subito fin da ragazzi. Se no, quando siamo grandi, non si guarisce più. Queste parole toccarono l'animo di Pinocchio, il quale, rialzando vivacemente la testa, disse alla fata. Io studierò, io lavorerò, io farò tutto quello che mi dirai perché, insomma, la vita del burattino mi è venuta a noia e voglio diventare un ragazzo a tutti i costi. Ma l'hai promesso, non è vero? Te l'ho promesso e ora dipende da te. Grazie